Dopo la messa della Domenica delle Palme, Papa Francesco All'Angelus ha ricordato la 31esima giornata mondiale della gioventù, celebrata a livello diocesano, invitando tutti i ragazzi a partecipare numerosi all'incontro di luglio a Cracovia. Il mio saluto speciale va ai giovani qui presenti. E si estende a tutti i giovani del mondo. Spero che potrete venire numerosi a Cracovia, patria di San Giovanni Paolo II, iniziatori delle giornate mondiali della gioventù. Alla sua intercessione affidiamo gli ultimi messi di preparazione di questo pellegrinaggio che, nel quadro dell'Anno Santo della Misericordia, sarà il giubileo dei giovani a livello della Chiesa universale.